La Giuseppe De Maria Production ti dà il benvenuto nel suo canale YouTube dedicato ai mezzi storici, e ti propone il settimo episodio della serie dedicata alle gallerie di foto vintage, colorizzate digitalmente, e aventi come soggetto principale alcuni mezzi storici, o scene di vita in cui essi compaiono. Con il termine di colorizzazione, viene solitamente identificata una particolare ed efficace tecnica cinematografica di tipologia digitale, sperimentata per la prima volta negli Stati Uniti e gli albori degli anni settanta, e successivamente perfezionata durante lo svolgersi dei decenni successivi. Tale tecnologia consente l'aggiunta di colori, solitamente scelti in base alle conoscenze disponibili relative al periodo storico durante il quale sono stati realizzati, a vecchi filmati e foto d'epoca, che si presentano in bianco e nero a causa del ciclo produttivo che veniva utilizzato in origine nel corso della loro lavorazione. La maggior parte delle foto vintage che compaiono in questa serie sono state scattate durante il periodo comprendente la prima metà del ventesimo secolo, con qualche piccola incursione nel corso degli anni sessanta, principalmente negli Stati Uniti, e hanno come soggetto primario comuni scene di vita quotidiana, incidenti automobilistici, vedute di strade, personaggi celebri ritratti in compagnia delle loro autovetture, concessionari di auto, e rappresentano un pittoresco ritratto del cosiddetto, del tempo che fu. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!